Occhio al grosso il primo palo, palla in gioco. Occhio al corner. Tres pince di pugno. Ecco il tiro, grande riflesso. Esploso nel Dortmund, nell'ultima stagione Lewandowski si è rivelato uno degli attaccanti, può portarsi in vantaggio. Può far male a me. Pallone profondo, pericoloso. Bravo il portiere a dire di no. Si avvicina all'area. Trova la botta. Pallone profondo, pericoloso. Pallone profondo, pericoloso. Pallone profondo, pericoloso.